Eccoci qua! Dice Mad Prex la nave dovrebbe essere a Gioia Tauro, quella con Sons of Fariel. Non lo so, credo Shelly lo sappia, ma non lo possa dire per contratto. Non so, sa lei quello che puoi, non puoi dire se non l'ha detto. Possiamo parlare di un'altra cosa? Quindi, cambia il discorso. No, allora, il punto è questo, io non mi occupo direttamente di questo, perché non mi occupo della logistica, e prima di dire una puttanata grossa quanto una causa, meglio non di niente. Perfetto. Fai bella figura, stai zitta, sei carina, eh, oh. Ma passerei quindi, dato che nel frattempo è partita la sigla del gioco e è anche finita, parlerei del gioco di stasera. Sì, è un gioco bellissimo, di persone meravigliose. Sì, questo sì, no, di persone meravigliose sì. È un gioco bellissimo, di persone meravigliose. Sì, questo sì. Di persone che vedrò presto. Piano, lascialo dovere. Di persone che vedrò presto, per fortuna mia. Direi di andare subito al tavolo, perché stiamo parlando di Golem. Golem è una scatola ciccionosissima. Beh, insomma. Insomma, è bella. Sì, no, però. Bella cicciosa, uscita dalla penna, per così dire, di Virginio Gigli, Flaminia Brasini e Simone Luciani. Attraverso Cranio Creations, che l'ha portata alla vita. Ricordiamo che di Golem abbiamo fatto diversi, ormai mesi, un anno fa. Cos'era? Eh sì. Febbraio, marzo, marzo, aprile, marzo, aprile era? Marzo, aprile, perché era marzo. Eravamo in pandemia in, era... Era marzo, aprile, perché io ero a Casambara. Ma forse di più di un anno, perché era 2020. Era 2020. Quindi quasi due anni fa. Sì. Quasi due anni fa. Quasi due anni fa abbiamo fatto una partita su Table Top Simulator, insieme agli autori. C'era anche Simone? C'era anche Simone. C'era anche Simone, è vero. Tutti o tre gli autori, c'era ancora Fox. Chi? Niente. Ah. E abbiamo avuto modo di esplorare questo gioco in anteprima allora. Poi il gioco è arrivato sui nostri tavoli e finalmente... No, poi, aspetta, aspetta. Poi il gioco è stato stampato e io a Essen ho visto le prime copie, ce ne erano solamente 200 in tedesco. Intanto apro la scatola. In tedesco. È sexy questa cosa. La scatola è bella, bella corposa. E non c'erano le copie né in inglese né in italiano. Le copie in tedesco? Cosa? C'erano le copie in tedesco? No, 200 copie in tedesco. E in quella sede mi dissero che sarebbero arrivate per Lucca, poi per Lucca non ci si è fatta ed è arrivato poco fa, tre settimane fa. Un mesetto fa, sì. E iniziando dalla scatola purtroppo devo dire la scatola è un po' leggerina. Scusa, perché c'è il timbro di fustella rotante? C'è il timbro di fustella rotante perché la scatola ci è stata mandata da Cranio Creations, gentilmente, che ce ne ha fornita una copia e noi tutte le copie dei nostri giochi le timbriamo perché poi quando hanno finito il loro ciclo di vita, diciamo così. Per la produzione di contenuti strabilianti e favolosi come questo. E non li giochiamo più magari o li accantoniamo, li doniamo alle associazioni di varie zone d'Italia e per evitare che se le possano poi rivendere le timbriamo dietro il coperchio. Dicevamo. Max avrebbe fatto di peggio. Sì, è vero, lui disegna i piccoli cazzetti dentro le scatole. Ciao Max. Se non si fosse capito sto parlando di Max di IMS Edizioni. Dicevamo, aperta a scatola troviamo il regolamento e anche il regolamento dell'automa. Del grande automa. Grande automa. Da 1 a 4 giocatori qui è da 1 davvero. Automa che tra l'altro è di grado da 1 a 4 di difficoltà. E può essere unito anche alle partite multigiocatori, quindi puoi giocare fino a 4 automa compreso. Allora, sposto la scatola così tiro su un po' di come. Ce la faccio con una manosola del pesante? Sì, ce la faccio, ce la faccio perché ho tolto il tabellone. Allora, andiamo ad aprire subito il tabellone così andiamo a vedere cosa c'è in questo tabellone. Il tabellone non è enorme, 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 sei volte la scatola, insomma, non è gigantesco. Nel tabellone abbiamo rappresentate varie zone della città e fondamentalmente andremo durante il corso della partita a cercare di far punti sviluppando le nostre tre, diciamo, non mi viene il termine, aiutami cavolo, aiutami quando mi vedi le tre cose principali, tre risorse, tre tracciati, tre... Tracciati? Tre... Allora, secondo me stai sbagliando approccio. No. Poi dopo fai... Comunque abbiamo tre aree principali che sono quella dell'argilla e della costruzione dei golem, quella dello sviluppo economico con la raccolta di soldi e la produzione di artefatti e lingotti d'oro e l'ultima, che è quella rappresentata dal blu, che è quella della conoscenza con... Possiamo fare... Bevi... esatto. Bevi meno, o di più, perché il problema potrebbe essere quello. Secondo me prima di fare questo tipo di spiegazione dovresti dare un'infarinatura dell'ambientazione. Ora ci arrivo. Ora ci arrivo. E non si capisce se no perché si devono fare gli artefatti e i lingotti d'oro. E ora se aspetti ci arrivo. Se ora aspetti ci arrivo. Non mi devi interrompere sui discorsi e poi non mi ricordo più una fama di quello che sto dicendo. Ovvia. Eh, diteglielo anche voi. Io bevo. Se no ora mi metto qui un tattino per spengerti il microfono. Come facevo a bei vecchi tempi. Dicevamo, la gestione di queste tre aree di interesse mi porterà a sviluppare punti. Ma avveniamo all'ambientazione. Qui volevo arrivare, solo che non mi dà tempo. Ma non ha senso spiegare le tre track prima dell'ambientazione. Perché l'ambientazione la volevo far dire a te che sei secchiona. Quindi se non faccio un po' di abbrivio, ovvia. Dicevamo, golem. Sì. Cosa sono questi famosi golem, cara la mia Shelly? Raccontaci un po'. Costrutti di materia inanimata che prendono vita tramite la magia e che possono effettuare delle azioni molto spesso utilizzate per fare delle azioni abbastanza complesse o molto faticose. Ok. Sono dei costrutti di materia inanimata. Eh? Ok, e questo alla tradizione ebraica come si lega nello specifico? Nello specifico? Tu che sei secchiona e le sai. No, io non è che sono secchiona. Sì, sei secchiona. Non è inutile negarlo. Allora, come si lega? Ti vogliamo bene anche per questo. Allora, succede questo. Il gioco è ambientato a Praga, poiché tra le strade di Praga c'è la leggenda che un rabbino abbia costruito un golem, ovvero il golem di Praga, che avrebbe dovuto aiutare i ebrei di Praga a sfuggire azioni efferate. Io guarda me le ho viste solo in ambientazioni thriller e horror. No, qui sono più utilitaristiche. In realtà fanno parte della tradizione classica, della tradizione delle leggende del folclore del nord Europa. Nello specifico, il golem di Praga avrebbe dovuto aiutare gli ebrei di Praga a scampare alle persecuzioni. Grazie, alle persecuzioni. Vedi? Vedi? Prendi spunto. Io quando non ti viene il termine te lo imbocco. Non come fai tu. Ditegli qualcosa. Non tu sei più bravo. Facciamo una raccolta fondi per aiutare Scelli a dire le cose giuste al momento giusto, invece che no. Allora, dicevamo, e quindi il gioco è ambientato tra le strade di Praga nei vari distretti di Praga e lo scopo del gioco è quello di costruire dei golem e fargli performare delle azioni che ci permetteranno sostanzialmente di acquistare punti vittoria, acquisire punti vittoria per poter fare più punti del nostro avversario e quindi batterlo malissimo ogni volta. Esatto. Ma come funziona nello specifico il gioco e come funzionano le sue meccaniche? Poi nel frattempo, mentre tu lo spieghi, io poi magari racconto dello sviluppo di questo gioco che insomma l'ho visto crescere, quindi è molto piaciuto. Il cuore pulsante di questo gioco e la cosa, una delle sue particolarità, sono infatti queste biglie. Le biglie sono di tre colori, giallo, rosso e azzurro più bianco e nero. Che sono colori a loro volta. Sì. Fai silenzio. Ovviamente giallo, rosso e azzurro che sono gli stessi colori dei tracciati che abbiamo visto prima e delle tre aree di influenza di cui abbiamo parlato prima. Come funziona? Il gioco si divide in quattro round attraverso i quali andremo a fare ognuno fino a tre azioni. Due azioni date dalla raccolta di queste biglie e un'azione invece selezionata da delle tessere azioni che andremo a mettere su questo spazio di questa plancia. In pratica andiamo a inizionare a far cadere le biglie. Bellissimo perché un'azione non è uscita. È una cosa che capita in realtà abbastanza spesso, soprattutto quando le biglie le butti tu. Sì, esatto. Perché io le sbraccio un po' così. Chiaramente il numero di biglie cambia in base al numero di giocatori, in questo caso ho messo tutto. No, Rizzo non è esattamente come Gizmoz, ma... No, un pochino più pessino. È un tantino... No, no, dai. Ma giusto un po'. Dicevamo, su questa plancia abbiamo le varie azioni. Dalla prima che mi permette di muovere i golem e fare l'azione sullo spazio sul quale sono arrivati e poi vedremo. Le tre azioni delle tre aree di influenza, quindi guadagnare argilla, poter fare un avanzamento di argilla e costruire un golem. guadagnare soldi, fare un avanzamento del tracciato dell'oro e eventualmente costruire lingotti, guadagnare conoscenza, fare un avanzamento negli spazi da conoscenza e acquisire libri per studiarli. In cantesimi. In cantesimi, pagine di libri. E l'ultima che è un'azione, diciamo, di... Cioè, detto così, anche i vinili sono pezzi di plastica. Sì, è vero, effettivamente lo sono. L'ultima è un'azione che mi permette di copiare una delle altre. Il funzionamento è semplice. Io vado a prendere una biglia da uno dei tracciati in corrispondenza dell'azione che voglio fare, farò l'azione con la forza pari al numero di biglie che ci sono in quel tracciato prima del prelievo. Quindi, ad esempio, se vado a prendere questa biglia gialla, farò questa azione qua a forza quattro, perché c'erano quattro biglie, il che vorrà dire che prenderò quattro punti di conoscenza e poi potrò fare l'avanzamento e acquisire pagine di libro. Real Yugoslave, la scelta di usare le biglie si ricollega alla tradizione ebraica? Non credo proprio. Tra l'altro, se vi andate a vedere la nostra partita gameplay su TTS di due anni fa... La trovate su YouTube e sul nostro sito. Fate come pare, basta che va, guardate. C'erano dei dadi addirittura, proprio perché stavamo... Cioè, i game designer stavano ancora cercando la maniera ottimale di trasportare questo meccanismo... Randomizzare questa... Randomizzare questo tipo di scelta delle azioni. Tant'è che c'erano dei dadi a sei facce, ma il sei non si poteva utilizzare, infatti le azioni sono cinque, si doveva ritirare come jolly. Ok, se mi togli questa così si vede il tabellone. La posso usare come corona? No. Dicevamo, cosa succede quando prelevo una biglia? Intanto sul tabellone ho questi tre tracciati che facevo vedere prima, su questi tre tracciati avrò in alto uno studente del colore relativo che si muoverà in avanti o indietro e eventualmente uno o più golem sulla parte bassa del tracciato. La parte in alto si chiama strada, dove si muove lo studente e invece i golem si muovono nel quartiere. Dicevamo, quando vado a prelevare una biglia colorata, gialla, blu o rossa, avanzo di un passo anche il relativo studente. Qualora vado a prelevare la biglia bianca non avanzerò nessuno studente, qualora prelevassi la biglia nera avanzerò di un passo due studenti diversi. A cosa mi serve avanzare gli studenti? Intanto per avere a inizio del turno successivo la rendita dello spazio che avranno raggiunto. Ma soprattutto perché con le varie azioni golem e all'inizio del turno, in base al livello del tracciato relativo che avrò raggiunto, andrò a spostare in avanti i miei golem. Il livello raggiunto dallo studente rappresenta la quantità di sapere sviluppata da quello studente che mi permette di controllare i golem. Perché se non li controlli? Qualora il golem fugga diciamo più avanti sul tracciato rispetto allo studente dello stesso, semplicemente per fare le azioni dovrò pagare un prezzo in conoscenza, con la risorsa conoscenza e inoltre a fine del round. No, si paga solamente a fine round col controllo dei golem, non per fare le azioni. Non per fare le azioni. Questa è una regola che tu vuoi... A me non mi... È del legno, raga. È per questo che non... Tech. Tech. Comunque pago conoscenza per riuscire a controllarli. Ma i golem possono essere anche mandati avanti, fatta l'azione e poi uccisi. Infatti ci sono delle azioni sulle tessere soprattutto che disporrò qua, delle azioni che andranno a fare i vari golem, che mi permettono di ucciderli e spostarli qua in basso sul cimitero e raccogliere il relativo bonus. A cosa serve ucciderli? Serve al fatto che nel momento in cui costruirò nuovi golem, se su quello stesso tracciato c'è già un golem, il costo sarà raddoppiato. Quindi... Se non li controlli te li scippano gli avversari? Domanda Ritz. In realtà no. Da questo punto di vista è totalmente non interattivo. Esatto. Il gioco non ha una grandissima interazione, anzi è un gioco che mi piace a me, quindi ha bassa interazione ed è in diretta. Quindi no, tra l'altro ogni giocatore ha i golem nel proprio colore, quindi non c'è rischio di sbagliarsi. Sì, l'interazione in questo gioco è semplicemente nella scelta delle azioni, quindi nel prelevare la biglia che quindi toglie potenza a quel tracciato, chi prende dopo la biglia farà un'azione più scarsa, nel colore delle biglie che servono per dei bonus di fine round, aver preso biglie di un certo colore e nell'acquisto delle carte rappresentanti alle pagine dei libri dagli incantesimi che ovviamente essendo un mercatino se me la compra l'avversario non posso comprarla io, per il resto l'interazione è pressoché nulla. Ma veniamo a come si fanno poi i punti di fine partita, perché è lì l'obiettivo. in pratica dovrò... Anche tutti i cosetti sopra? Sì, sono mille, tanto ora lo spiego senza i cosetti, sono mille, vuoi mille? Questi si vedono meglio. In pratica sulla mia plancia ho tre aree. La posso spiegare io la plancia che te l'ho spiegata così bene l'altro giorno? Proviamo, non credo riuscirà, ma insomma proviamo. Ho tre aree nella plancia. Nella plancia ci sono tre aree che sono facilmente riconoscibili dal colore. La zona blu, che è la zona della conoscenza e degli incantesimi. La zona rossa che corrisponde alla zona blu. Esatto. La zona rossa che è la zona di gestione, controllo e upgrade e creazione. dei golem, che corrisponde alla zona giallorana, che corrisponde alla zona marrone che c'è quassù. Marrone, sì, rosso. Marrone, rosso. E poi c'è la zona dorata, che è questa qui, che è la zona per la produzione di artefatti, che sono questi, che sono sostanzialmente... Soldi, artefatti e lingotti. Sono sostanzialmente degli introiti che noi abbiamo quando facciamo determinate azioni, se li sblocchiamo, o delle rendite di fine turno, e dei lingotti, perché si sa che gli ebrei accumulavano lingotti. È la loro principale occupazione. Come facciamo i punti? I punti sono dati, bravo, i punti sono dati per ognuna di queste aree da due fattori che vengono moltiplicati a fine partita. Sostanzialmente dal numero di... A meno Ra. A meno Ra che avrò scoperto e... Mi sembra, mi vorrei dire una bestialata, però... Menor Ra. Menor Ra, che avrò scoperto facendo i vari upgrade di quel tracciato, e possono essere fino a sei per ognuno, e il numero di avanzamenti... Otto, scusami, a meno Ra che posso scoprire. Menor Ra. Menor Ra. Perché sono... Qui ho delle tessere che posso andare a girare, ognuna ne ha una, una speciale ne ha tre, e una c'è qua dietro, e sono in tutto otto. In più ne puoi raccogliere una nel tabellone? Esatto, una in più nel tabellone, e mentre tutto questo lo moltiplico per il numero di avanzamenti che ho fatto in quella stessa area. Quindi, ad esempio, nella zona dei Golem ho qui delle tessere che posso... Dove c'è il rappresentato il Golem, ci sono delle tessere che posso capovolgere per fare degli upgrade ai miei Golem, ognuna di queste mi darà una o più Menor Ra, e moltiplicherò a fine partita per il numero di Golem costruiti, quindi fino a quattro. Quindi al massimo, otto per quattro, posso fare trentadue punti con quest'area della plancia. Altrettanti ne posso fare con quella dell'oro, perché andrò a moltiplicare anche qui queste Menor Ra che vado a scoprire spostando le tessere che ci sono sopra, per il numero dei serbatoi dove vado a posizionare i vari lingotti. Quindi quelli che avrò riempito sono massimo quattro e anche qui otto per quattro. Su quello blu ho un nove per quattro con quella che posso raccattare dal tabellone. Questo è sostanzialmente il modo di fare punti. Ci sono poi tutta una serie di azioni lungo la partita che mi fanno raccogliere un po' di punti, azioni che mi danno anche delle ricorrenze, delle rendite di punti a inizio, a fine round, e quindi raccolgo un po' di punti, ma poi il grosso lo faccio con questi tre moltiplicatori, con questi tre fattori moltiplicati. Tornando alle azioni, dicevamo prima faccio due azioni fino a due azioni con le biglie, la terza azione la faccio con il mio rabbino sulle tessere azioni, che sono una serie di tessere tutte diverse e che ruotano di round in round. Ce ne sono sempre una più del numero dei giocatori, quindi fino a cinque, e una invece stampata, che è quella subottimale, che è uccidi un golem e raccogli le risorse, se ti trovi incastrato di risorse, puoi sempre fare quell'azione lì subottimale. Il tutto per quattro round, quindi il gioco scorre via abbastanza veloce, dopo aver conosciuto l'iconografia e il flusso di gioco, e diciamo fugati. Se giocate con Andy, una partita è anche due ore e mezza. Ma non è vero. Sì, è vero. Non è vero. Ah, cioè un'ora e mezza, cioè due ore e mezza ci abbiamo messo l'ultima volta. Ho capito, perché ci sono dei simboli che non sono chiari, abbiamo passato la prima partita con la testa dentro il manuale, ma questa è un'altra cosa di cui... No, diciamo... Vabbè, andiamo avanti. Il tutto in pura salsa giglica, si può dire? Sì, è molto giglico. L'unica cosa che manca alla giglicità di questo gioco è il... Sono mille carte tutte diverse. No, è il turno a ferro di cavallo, che è un grande classico di Virginio. che a me piace molto, ma che solitamente non viene apprezzato. Non so perché. Detto questo... No, scusate, eh. Andy non ve l'ha tirati fuori, ma guarda quanto sono bellissimi... I golemmini. I golemmini. Eh, guarda. I golemmini. I golemmini. Questo è uno studente, invece. Voglio vedere lo studente. Cioè, vabbè, c'è il rabbino, che è un pedone sostanzialmente abbastanza... Un pedone un po' abbastanza old style. Sì, non ci piace. E poi c'è la cartina Play Raid, dove da una parte c'è il... Il flusso del round, e dall'altra i punti di fine partita. Esatto. Dicevamo, la partita scorre via abbastanza veloce, ma io non ci chiappo niente. questi giochi. Allora... Cioè, non riesco a mettere... Ma le hai detti gli obiettivi? No, ci sono anche delle carte obiettivo, sì, tra il tutto, che mi danno un'indicazione di quello che cercare di fare durante la partita. Cioè, arrivare con uno studente a un certo livello, costruire un certo numero di golem, e così via. Avere un certo numero di incantesimi tra i libri. E mi danno punti, se riesco a raggiungerli, e punti per obiettivi di tipo diverso riusciti, che sono riuscito a... Perché di una stessa tipologia di obiettivo, ce ne sono vari tipi. Per esempio, io durante la prima partita mi sembra che avevo tre obiettivi dello stesso tipo, che era fare rispettivamente cinque, sette e nove upgrade sulla plancia. Chiaramente se sono uguali è più facile. Ovviamente, quindi non ti danno punteggio bonus. Così come posizionare lo studente di un tracciato specifico nella posizione cinque, sei o sette. Se nella stessa partita noi completiamo due obiettivi, ovvero posizionare lo studente rosso, per esempio, nella posizione quattro e nella posizione sei, non avremo punteggio bonus, ma prenderemo solamente il punteggio secco di partita. Ti sei scordato di spiegare cosa servono questi buchini, questa zona della plancia? L'ho detto veramente, solo che sei poco attenta. Cioè, prendere biglie di colori specifici mi danno la possibilità di attivare dei bonus a fine round. L'ho detto prima. Che sono dei personaggi? Sì, no, ma lo hai raccontato in maniera così fredda. Perché il tema è appiccicato con lo scotch, dai! non è che... Allora, diciamo che ti brucia il fatto che hai perso malissimo. Che c'è dietro? Dietro c'è... Ah, c'è... Ah, guarda! Non l'avevo visto, non l'avevo girata la plancia. C'è il golem con i buchini. Bellina, è una finezza questa. Anche perché sulla scatola gli occhi del golem non c'hanno i buchini. No, sono blu e rosso come se fossero due biglie. Sì, manca il giallo. Eh, il giallo sono... È giallo lui. È giallo lui, come lui è verdino. E... No, è che abbiamo fatto la color correction nuova, sembriamo così sani. Ma dove? Dicevamo, eh, a me questi giochi di Virginio Gigli, eh, devo dire, riconosco siano dei bei giochi, ma a me non mi entrano in testa. Cioè, io non riesco a... Lui non vede, non vede le linee che ci sono. Non riesco a performare delle strategie, eh, efficaci. Cioè, faccio cose efficaci dal punto di vista della produzione del motore, della costruzione del motore, ma... Non mi pare, non mi risulta. Sì, ho finito le partite con otto milioni di risorse, ma riesco a creare un motore di creazione di risorse... Ma poi non le usi. Ma non riesco a collegarle con le azioni che creano punti. Ma mi succede in diversi giochi. Cioè, per esempio, a Everdell, per citare un gioco totalmente diverso... Con un tableau building, quindi non c'entra assolutamente nulla. Riesco a passare al primo... la prima volta quando gli altri passano alla terza. Quindi ottimizzare le azioni per fare un miliardo di cose, ma poi arriva un fondo e ho fatto due punti. Non mi... Non gli entra in testa. non lo so perché. Altra particolare... Allora, diciamo che nel fare il setup è quasi tutto randomizzato. Sì, le tessere azioni dei tracciati dei quartieri dove ci vanno... dove vanno a fare le azioni Golem sono dieci e ne vengono prese solo sette. Devono essere sempre... E poi ordinate in ordine di numero perché sono dalla più forte... Dalla meno forte alla più forte. E quindi se fosse più ambientato troveresti un senso in quello che fai anche quando il motore non ti funziona? Per esempio, ne parlavamo con Shelly non mi ricordo se... Ieri sera, sì, forse ieri sera, nei giochi di La Serda che sono anche più intricati di questo... Mi sa che era venerdì. Ovviamente, vabbè. Riesco a trovare meglio un senso alle cose e quindi riesco a collegare un filologico ma non è per forza il tema perché per esempio con i giochi di Feld che sono comunque degli incastri di più meccaniche semplicemente non hanno... L'ambientazione non c'è fondamentalmente tipo, che ne so, tipo Bonfire l'ultimo... l'ultimo arrivato. A me piace l'unico Feld che non sembra un Feld figurati. Ho paura a chiederti quale esattamente... Andiamo avanti. No, quale? Andiamo avanti. No, dimmi quale. Andiamo avanti. Non stai dicendo quello, vero? Andiamo avanti. Non è quello. Ti prego, dimmi non è quello. Scrivetele in chat. Non è quel Feld. Andiamo avanti. Cioè, come dire a me piace La Serda piace Escape Plan. Ma io infatti ho detto a me piace l'unico Feld che non sembra un Feld perché gli altri non mi chiedono. Traian, magari Traian. No. E non è un capolavoro. No. Oh, comunque buonasera. Buonasera. Buonasera Gianluca. Come state? Ciao. No, lei dice quello. Quello. Quello, le barchine. No. No. Ah, non quello. No. Allora tutto il resto va bene, dai. Non quello con le barchine. Prego. Tutto sommato tutto il resto va bene. Dai, qual è quello? Dai, andiamo. No, non ci interessa. Andiamo, non siamo. Ci interessa, ce lo chiede il pubblico. Guarda. È vero. Chiedetecelo così poi è costretta a rispondere. Dicevo altri tipi di autori fanno incastri comunque di meccaniche poco, anche poco ambientate ma riesco a trovarci dei fili logici e costruire delle strategie efficaci. Nei giochi di Virginio Gigli e Flaminia non poi non tutti perché ah, vedi, guarda chiede Matt Prex di quale Feld parli. Te lo scrivo nella mail che ti devo mandare. Non si fa. Sì, andiamo avanti. Non si fa, non si fa. Ce lo chiedono a gran voce. No, dovete fare, dovete fare almeno cioè dobbiamo far partire l'App Train allora io lo posso dire. Guarda, guarda anche Gianluo vuole segnare. No, facciamo partire l'App Train e ve lo dico. Dai, dai, dai scrivete copia e colla copia e colla copia e colla ma no mettete i cheers mettete il il dicevamo invece nei giochi loro non tutti poi perché per esempio Lorenzo è un gioco che apprezzo molto di più ma questo così come Alma Mater li ho trovati molto guarda anche Ria Lugo si dice sì ma quale Feld cioè qui tutti vogliono saperlo ora ti lo prendo. Raga, fatti i cheers facciamo partire l'App Train e ve lo racconto. Che c'è? sei disonesta. No, non sono disonesta. Dai, spendete qualche cheers dai, fatela contenta tanto ne basta uno costa due centesimi. Tra l'altro cioè siete pure poco furbi perché potete andare potete andare sul mio profilo BGG leggervi i giochi che c'ho quello c'è sicuro perché non è molto aggiornato ma se sarà mi ha fuori un traianum no no spero che no è proprio una zuzzeria lamorosa dicevo andate su su BGG vi leggete la mia libreria io quello è l'unico Feld che ho fate fate mobis vabbè detto questo il bello sono giochi che io trovo un po' ostici e non mi non mi danno soddisfazione non non trovo il il modo di rendermeli piacevoli sotto nessun punto di vista cioè arrivo cioè questo ci abbiamo fatto due partite anche negli ultimi due giorni a fila e sì sono entrato nel gioco ma ha avuto un miglioramento ha avuto un miglioramento di circa 15 punti beh su 70 ne avevo fatti la prima volta quindi più del 10% esatto quasi il 20% quasi il 20% anzi più del 20% però però no 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 non è un gioco non è un tipo di gioco che a me piace non c'è nonostante ami cinghialoni ami i giochi anche punitivi non questo non non mi è proprio cioè non è un gioco che rigiocherei volentieri cioè è uno di quei giochi ecco che la lo definirei uno di quei giochi che se mi dici dai giochiamo a Golem vabbè giochiamo a Golem però se si può giocare altro sono tanto più contento vabbè io giocherò all'automa da solo mi riporto a casa e gioco l'automa e invece a me piace è proprio il gioco che a me piace fossero tutti così e già i miei regini a me piace molto mi piaceva già quando era cosa ti è piaciuto in particolare a me piace il fatto che sia giglico quindi il fatto che devi prendere le ma non è neanche quello Rizzo vedi non è solo non è il perdo perché per perdere io ci sono tanti giochi che adoro a cui perdo male ma ma tanti tipo fantasmi tipo fantasmi quello non perdo male quello perdo e basta però ci sono giochi dove non c'è verso di vinto cioè tendenzialmente Burgundy 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 è un bel felice sì ma non è un felice ma come non è un felice ma dai è un signor felice è fuori dai festi ecco Burgundy è un gioco dove tendenzialmente perdo però lo adoro allora Grand Austria Hotel mi chiedere a Jugoslav se mi è piaciuto Grand Austria Hotel mi è piaciuto vedi così come mi è piaciuto Coimbra stessi autori no Coimbra è degli a chi tocca quindi c'è anche Luperto e Tinto eh Sight no Sight di solito non perdo no non l'ha provato Pionieri non ho provato Pionieri non l'ha provato Pionieri aspetto l'integrazione della aspetto l'integrazione della del nuovo materiale per farglielo provare e Feld Burgundy vabbè Traian ovviamente Luna favoloso ce ne sono tanti di Feld ma tornando invece a torniamo allora Virginio e Flaminia a me è piaciuto quello che mi piace nei loro giochi così come in Terramara così come in sai non l'ho provato Terramara te lo porto se vuoi beh lo provate è bellino perché ci sono eh parlatevi in privato però eh esatto va di lavoro di lavoro dicevamo mi piace il fatto di che se perdi troppo tempo a produrre un un motore che ti dia talmente tante risorse da non dover ottimizzare ogni mossa non fai in tempo a giocare è finito il gioco poi vero Andy eh non so se hai notato questa cosa e quindi devi spremere tutte le coimbra solo famiglia e gigli sì vedi allora era l'alto eh no quello che dici tu è Alma Mater Alma Mater è a chi tocca sì però anche quello non mi è piaciuto invece coimbra per esempio mi è piaciuto eh invece bisogna spremere quelle pochissime risorse probabile sì Terra Mara sì Terra Mara sapete che c'è allora Framinia e Virginio vivono insieme insieme e Antonio e Tinto e Luperto sono amici quindi molto spesso capitano che sono lì e magari danno danno due consigli esatto ehm dicevo devi spremere quelle poche risorse che riesci ad accumulare spendendo il meno tempo possibile nell'accumulare risorse per poterlo ottimizzare a me piace questo e vedere i fili proprio che si muovono tra un'azione e l'altra dare questa sensazione di cascata sì infatti come dice Gianluca Board Game Italia sì anche se sugli altri titoli non escono tutti e quattro i nomi sulla scatola spesso comunque le mani ce le hanno messe come playtest comunque sì sì come un po' di sviluppo eh sì no poi sono sono davvero amici proprio a livello personale quindi è molto e detto questo no scusa possiamo dire posso dire vai dici signor in cranio sì allora è possibile Andy ha la brutta abitudine ha la brutta abitudine di fare le ziploc con dentro i pezzetti di ogni giocatore avendo scelto cranio di utilizzare colori per i giocatori color blind quindi c'è l'arancione c'è il fucsia non mi ricordo che altro che c'è e c'è il verde petrolio bianco verdino arancione e violino più fucsia eh fucsia verde petrolio io gioco col verde petrolio e nella bustina della ziploc del giocatore verde petrolio cosa c'è ci sono i pezzettini Matteo Berto ciao il podcast l'abbiamo caricato ieri sera quelli vecchi quelli nuovi li caricheremo da settimana prossima è registrato sì giuro adesso ho il diritto di romperli le scatole ogni singolo giorno guardate figata questa tesserina ah no se non metto il tavolo dicevo e quindi ogni giocatore ha le proprie tesserine sviluppo e a me che gioco il verde petrolio mi è capitata questa tesserina qui ma io io sono stata 20 minuti a guardare questa tesserina ora scusate perché non ho l'autofocus sulla cam ma si dovrebbe no ma che Matteo grazie a te ci dispiace fitto ci dispiace di non aver prodotto i podcast in maniera regolare negli ultimi tempi quando sentirai i podcast se non lo sai probabilmente capirai il motivo e spero che continuerai a sentirci grazie comunque la tesserina è stampata a specchio quindi è stampata fosse trasparente guardandoci attraverso sarebbe dritta diciamo così eh ce n'è una stampata non so se anche le altre due gli altri due colori non li abbiamo guardati perché non li abbiamo usati che magari sono almeno due e quindi niente signori signori della corte signori di cranio vi è saltata questa roba io sono stata a 20 minuti a guardare questa tesserina e vabbè Rizzo sono contenta che la la connessione non ti salta più probabilmente è stato tu pure abiti qui vicino probabilmente la temperatura che si abbassa si è congelato qualche si è frizzato un qualcosa e la connessione andava è solo quella solo quella una su quattro è come l'ovino kinder una su cinque esatto e quindi quindi vabbè gli è scappato questo e c'è da dire anche della scatola la scatola dentro ha tantissimo materiale perché ci sono tutte le parti in legno tutte le tessere le carte sono molto molto fine ma sono telate quindi hanno un buon punto elastico e ci sono tantissime planche perché c'è la pancia giocatore più la plancia aggiuntiva degli artefatti che sono tutte diverse doppia faccia più c'è ci sono tutte le tesserine da mettere sopra per fare gli upgrade quindi c'è davvero una quantità di cartoncino questa qui la sinagoga la sinagoga è ben fatta perché una volta montata è bella solida si mette a incastro e sta bella bella montata è ben fatta devo dire questo sì e l'unica cosa dal punto di vista entra nella scatola montata sì e anche perché monta e smonta se no sarebbe un delirio e l'unica cosa l'unica cosa dal punto di vista dei materiali che un po' lascia desiderare è appunto la scatola perché la scatola essendo piena e bella pesante diciamo avrebbe avuto fosse stata un po' più corposa diciamo tende a piegarti in mano per tutto il peso che ha all'interno esatto quindi magari è una scatola abbastanza delicatina considerate che a noi l'ha spedito cranio e è arrivata battuta è arrivata battuta perché quando me l'ha consegnato il corriere non è stato attento aveva oggettivamente traumatizzato anche il cartone fuori però insomma è abbastanza leggerina insomma fate attenzione alla scatola per il resto però insomma materiali no no dentro il cartoncino è da 4 mm è una roba è da 3 no sì bello bello spesso bello spesso anche le flance insomma bene e questo era Golem fateci ovviamente sapere se a voi è piaciuto meno se l'avete giocato non giocato o se volete vedere una partita a Burgundy io allora io ho comprato Burgundy nuovo aspetta metti la sigla dillo tra un po' grazie a tutti grazie a tutti